il simbolo neroso. Perfetto, buongiorno, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento del web meetup di Legal Hacker Storino, grazie all'avvocato Pietro Calorio che oggi sarà nostro ospite e ci parlerà della compliance, data protection e dell'utilizzo di strumenti legal tech per svolgere questo tipo di attività. Questo è l'ultimo incontro di questa settimana, la prossima settimana, da martedì a venerdì, sempre alle ore 16, ci saranno altri incontri, altri web meetup di Legal Hacker Storino e per tempo veicoleremo la programmazione per la prossima settimana. Io direi Pietro, se tu sei d'accordo, iniziamo, questa videoconferenza è registrata e sarà caricata sul canale YouTube di Legal Hacker Storino, se possibile già domani o al più tardi lunedì mattina. Il tema quindi è come gestire la data protection compliance con strumenti legal tech, per cui diciamo che in qualche modo diamo per scontato che cosa sia la data protection, cosa sia il GDPR, lascio però Pietro valutare se sia o no opportuno fare una brevissima introduzione, ma veramente breve, perché il tema importante è quali sono gli strumenti legal tech che esistono per gestire al meglio questo tipo di attività consulenziale, come renderla più efficiente possibile. E noi sappiamo che per una conformità GDPR, per una conformità di data protection, serve tutto un percorso che il consulente compie insieme all'impresa, insieme al cliente che è tenuto a conformarsi a questa normativa. Per cui Pietro, al netto di un'eventuale tua introduzione, se lo ritieni opportuno su cosa sia la data protection, la prima fase è quella della raccolta delle informazioni e quindi ti chiedo, come si possono raccogliere le informazioni per una consulenza, per una compliance data protection con strumenti legal tech? Grazie Raffaele, buon pomeriggio a tutti. La tua domanda merita una premessa, una brevissima premessa per quello che mi riguarda, io faccio l'avvocato, mi occupo di aspetti legali dell'informatica da sempre, da prima del GDPR di privacy e per forza o per amore da un paio d'anni, due anni e mezzo direi a questa parte, sono impegnato in via esclusiva in questo. Come si raccolgono le informazioni, dicevi? Perché c'è un tema senz'altro di raccolta di informazioni, perché noi come consulenti e soprattutto come DPO, soprattutto anche come DPO in una veste diversa, ma poi eventualmente lo vedremo, non conosciamo se non superficialmente, almeno inizialmente, l'organizzazione aziendale, l'organizzazione, scusa il bisticcio, dell'organizzazione, perché non parlo di aziende, perché comunque ci possiamo riferire ad aziende come a enti pubblici, come a enti del settore no profit, per cui la cosa bella è terribile della consulenza sulla compliance data protection è che le persone sono ovunque, si aggregano e fanno le cose più diverse e quindi, gioco forza, bisogna andare a calarsi veramente nella realtà di ogni organizzazione e quindi io in linea generale parlerò di organizzazioni. Questa presentazione nasce, spero che tutti possiate vederla, nasce da almeno due anni e mezzo di esperienza sul campo a sporcarmi le mani insieme a tanti altri colleghi e quindi nel raggiungere un obiettivo che è quello di essere nella snellezza e nella liquidità diciamo così di struttura che gli avvocati non appunto strutturati in grandi studi o società di consulenza devono affrontare, ecco queste le sfide che devono affrontare questo tipo di professionisti, questo tipo di professionisti che non possono vantare una pletora di collaboratori in stile, lasciatemi dire, Big Four, quindi Deloitte, UI, PwC e tutte le grandi società di consulenza e quindi bisogna guzzarle in genio e arriviamo al punto fondamentale. Queste soluzioni ci devono, ci possono consentire di trovare delle economie di scala, per così dire, nella gestione degli adempimenti di compliance. Il primo tra tutti, giustamente Raffaele mi ha ricordato e qua vedete la slide, sono, il primo tra tutti è la fase di quella che in gergo si chiama data mapping e data recovery, data mapping, data recovery, ossia la raccolta delle informazioni, non solo sulle entità che interessano ai fini della data protection, cioè le categorie di interessati, ossia le persone a cui si riferiscono i dati, le categorie di dati personali trattate, le finalità del trattamento, i destinatari dei dati personali, quindi entità, relazioni e ambiti di circolazione delle informazioni relative a persone, ma proprio delle informazioni relative all'organizzazione, che per la propria attività, anche qui per amore o per forza, tratta informazioni personali. A volte come core business, caso di tutte le società informatiche in qualche modo, tratta informazioni tra le quali ci sono anche le informazioni personali, ma anche tutte le altre società di produzione e vendita di prodotti o servizi che devono, per sopravvivere, anche trattare dati personali. Quindi veramente le fasi in cui degli strumenti di automazione sono le più diverse, vedete, sono le più diverse e sono sintetizzate in questa slide. Fin dalla redazione dei preventivi, cioè se abbiamo un sistema di raccolta strutturata di informazioni su dimensione della società, che cosa fa, cosa non fa, appoggiandoci magari anche alle linee guida del garante, le famose FAQ, che sapete tutti non hanno nessun valore cogente, ma comunque sono un utile indirizzo, non autoritative, ma senz'altro autorevoli. Per la redazione dei preventivi, quindi, preventivi come sia per l'attività di consulenza, sia perché no per l'attività di DPO, e qua le cose cambiano un po'. Raccolta di informazioni per la redazione di quella che secondo me è tante volte una cenerentola perché viene considerato uno sterile addempimento burocratico, ma in realtà è il cuore di tutto il sistema, è il registro dell'attività di trattamento. Se si è fatto il registro dell'attività di trattamento bene la prima volta, tutto il resto è in discesa. questo è la mia vita vissuta e mi sento di condividerla con voi. Perché no, anche per la redazione delle informative, non lo so, magari quando vi capita di fare dei lavoretti di privacy, di redazione privacy cookie policy, ci sono dei sistemi che possono rendere anche gradevole all'utente che deve darti la risposta, la raccolta delle informazioni. E questo a maggior ragione in questo momento in cui le attività purtroppo sul campo non si possono fare. Questo quindi ci aiuta a standardizzare, ci aiuta a reperire, come vi dicevo, a escogitare economie di scala e quindi avere un quadro di lavoro più ordinato. È facile? No. Tra l'altro, ecco, il focus che io vorrei tenere in questa relazione non è una descrizione delle mille e più soluzioni proprietarie che sono affacciate a varie ondate sul mercato, ce ne sarà un elenco, vi e vi rimarranno, nel senso che io avrei in animo che queste slide vi servissero più dopo che non durante l'evento per avere poi una fonte da cui attingere per andare a approfondire. Infatti, vedrete, ci saranno tanti link. Io non voglio tenere un focus, vi dicevo, sulle soluzioni che offre il mercato, ma vorrei raccontarvi quella che è la mia esperienza di utilizzo di certe soluzioni free o comunque disponibili a tutti, perché parleremo di Google, Google dà dei servizi free, ma chi si occupa di data protection sa benissimo che quando qualcosa è free il prodotto siamo noi con i nostri dati. Però non si deve fare troppo i puristi e si deve anche accettare il fatto che le big della tecnologia certe cose le sanno fare molto bene e quindi perché non utilizzarle. Pietro, scusami se ti fermo, perché secondo me tu hai detto una cosa molto importante, cioè non siamo qui a raccontare ci sono questi dieci servizi, ma la tua esperienza, tu ti occupi di privacy da non so quanti anni, ma tanti tanti anni, dieci, quindici anni, ti occupi di legal tech da anni? Voglio essere onesto, meno, ma comunque sia, sì me ne occupo, diciamo che quello che ho speso negli ultimi anni vale molto, ecco dal punto di vista esperienza. Esatto, e quindi sono tanti anni che ti occupi sia di privacy sia di legal tech, quindi hai una forte esperienza nell'utilizzo di questi strumenti. Per cui è molto importante se tu oggi riesci a trasmettere la tua esperienza da avvocato che si occupa di queste cose da tanti anni a chi ci sta seguendo. Poi è chiaro che se nel mentre fai dei cenni a delle soluzioni specifiche stai accendendo Google, è perfetto perché alla fine poi uno deve sapere che cosa andare a usare, ma la tua esperienza ci può essere davvero molto utile. Ne approfitto per dire una cosa a chi partecipa alla videoconferenza. Se avete piacere di porre delle domande, cortesemente scrivetele nella chat, tanto sia Pietro che io le possiamo leggere e in ogni caso cerchiamo di riservarci una decina di minuti alla fine per farvi eventualmente intervenire anche a voce, non soltanto per iscritto. Pietro scusami, ma avevo piacere di fare questa precisazione. Ti ringrazio. In effetti qua non si tratta, parliamoci chiaro, non si tratta di far marchette a nessuno. Qua ci sono tutta una serie di strumenti che possono essere piegati agli utilizzi in ausilio alla compliance data protection, ma sono nati per essere multiuso e scalabili. La cosa particolarmente utile di questi strumenti è la loro scalabilità e la loro capacità di essere un ausilio alla strutturazione e alla standardizzazione. Pensando al registro dell'attività di trattamento, secondo quadratino di questa slide, voi sapete tutti che chi si occupa di queste cose sa benissimo che tante volte si deve impiegare molto tempo in interviste, cose che magari le Big Four, massimo rispetto ovviamente, ma magari hanno la possibilità di mandare 5, 6, 10 persone a fare le interviste a tappeto e impiegare giornate uomo, perché comunque loro sono potenti e possono scaricare a terra questo tipo di forza lavoro. Chi può farlo tante volte fa così e quindi fa interviste facendo alle volte, tra l'altro, anche perdere tanto tempo alle persone all'interno dell'organizzazione che vengono intervistate. Quindi questi strumenti spinti un po' in maniera convinta consentono a di lavorare appunto in maniera deformalizzata e da remoto, b di far perdere molto meno tempo a voi e anche a chi le informazioni ve le deve dare, perché ve le deve dare. Chiaramente una collaborazione dell'organizzazione ci vuole deve essere sempre sottolineata, però se sicuramente c'è una parte che tramite questionario checklist, che tutti voi penso abbiate, chi si occupa di queste cose, sfugge e per quello ci sono le interviste. Quindi io sentivo un collega che voi tutti conoscete, Luca Bolognini, che nel corso di un evento ha una domanda, ha una mia domanda in effetti, questo lavoro di strutturazione del registro delle attività di trattamento in particolare è un po' come la storia di, non so se vi ricordate, Karate Kid, dai la cera, togli la cera, aggiungi, togli, l'IMA, ci sono veramente, è una fase veramente importante e veramente delicata del processo di adeguamento, perché poi una volta che si è fatto il registro dei trattamenti bene, tutto il resto è in discesa, hai tutte le informazioni che ti servono per le informative, talvolta si inizia dai poster, si inizia dall'informativa e poi hai il risultato di avere un quadro di Picasso perché le informative dicono A e il registro dei trattamenti dice Z. E questa è una cosa che ovviamente in sede di ispezione bisognerà giustificare e non è particolarmente facile. Passando oltre, quindi senz'altro, il raccolto di informazioni anche per la redazione delle informative. Vi dicevo prima, nel momento in cui dovete fare lavori abbastanza perimetrati come la messa a norma di un sito, qualche set di domande lo potete gestire così. Oppure potete andare a fare magari addirittura ulteriori carotaggi per così dire, per esempio tutto un set di domande sulla videosorveglianza. Io personalmente ho una mia checklist con 60 elementi, 60 domande, 60 di numero proprio, solo per l'attività di videosorveglianza. Poi per i data breach, per la raccolta delle informazioni per valutarlo e poi per compilare la notifica al garante. Sappiamo tutti che esiste, qualcuno di voi in chat l'ha già nominato, giustamente, il tool messo a disposizione dell'autorità garante francese, la CNIL, PIA, quello per le valutazioni d'impatto. Sull'analisi dei rischi c'è un interessante tool di Enisa, l'autorità sulla sicurezza informatica europea che adesso è passata di grado, è diventata un'agenzia in qualche modo interconnessa con le istituzioni europee. E poi una cosa anche importante è saper utilizzare i documenti che, saper redigere i documenti che servono per spiegare al cliente nel caso di necessità di implementazione di privacy policy e cookie policy online, dove mettere le formule di consenso, come costruire la UI, la user interface e la UX, la user experience. Sappiamo tutti quanto tempo impieghiamo nello scrivere privacy policy con le basi giuridiche a posto, il consenso, non il consenso, poi quando si tratta di scaricarle a terra o comunque scaricarle online è lì che casca l'asino, perché chi sviluppa il sito spesso non riesce a tradurre in maniera corretta quella che deve essere l'esperienza dell'utente nella raccolta del consenso. Bisogna sempre metterci dalla parte dell'utente ovviamente, saper spiegare a chi sviluppa un sito quali sono le accortezze che deve adottare e qua vengono molto utili per esempio appunto i documenti, uno degli elementi di cui vi volevo parlare, che non è proprio legal tech ma comunque sia parte integrante, la capacità di utilizzo un po' avanzato dei documenti di testo, quindi con l'inserimento di immagine, menu, indici, sommari, un pochino di fotoritocco, non lo so, fare uno screenshot e sapergli mettere una freccia sopra, sono tutte cose utili, secondo me indispensabili in realtà. Alcuni esempi, per redazione di questionari e checklist abbiamo il classico G-form, poi se volete qualcosa di un pochino più evoluto perché loro fanno proprio solo quello, c'è Typeform. Poi ovviamente documenti di testo, Excel a sbizzarrirsi veramente. Per quello che riguarda per esempio la gestione dei task che può essere condivisa col cliente ma comunque anche per voi internamente, uno strumento a mio avviso potentissimo e vi posso dire che, ve lo posso dire a ragion veduta perché praticamente è il mio gestionale di studio in questo momento, da almeno un anno a questa parte, Trello. Trello è uno strumento molto molto flessibile, molto versatile che può essere usato veramente per tante cose, per condividere appunto dei task all'interno di un team, per avere degli scadenzari, per avere qualunque tipo di appunto, quante ore è impiegato per una certa attività e questo nella reportistica interna è molto 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 importante. Questo onestamente io lo uso più per finalità interne e di condivisione del lavoro con i collaboratori piuttosto che nel rapporto col cliente. Nel rapporto col cliente in realtà utilizzo moltissimo Google Form, Typeform non lo uso però so che esiste e l'ho anche utilizzato da utente e ha dei livelli di customizzazione molto interessanti. Documenti di testo, Excel ovviamente li uso molto e li uso molto in versione collaborativa, cioè tramite o Office 365 o G-Drive. Sapete che Google ha una serie di possibilità di condivisione documenti e con il cliente tante volte sono utili perché hai la possibilità di lavorare direttamente sullo stesso documento in modo tale che tutto sia allineato perché poi il problema vero, uno dei gravi problemi, lo sapete, se fate queste cose lo sapete, uno scambio continuo di documenti e per, e su questo ecco una cosa ve la vorrei dire, Google Typeform anche qui, OneDrive, Google Drive, per lo scambio di documenti o si utilizzano quelle soluzioni oppure ci sono anche altre soluzioni. immaginate Dropbox, io personalmente utilizzo come repository Nextcloud, questo. Questa è una piattaforma open source che ha una serie di provider appoggiati, quindi voi potete avere uno spazio web da qualche parte basato su questa piattaforma che ha molte, molte funzionalità, per intenderci assomiglia un po' a Slack per certe cose perché ha anche delle funzioni di messaggistica, può anche gestire account email, però comunque io la utilizzo molto per esempio per quello che riguarda la condivisione dei documenti proprio, cioè nel momento in cui io creo dei documenti per l'utente, per l'organizzazione, io proprio per evitare scambi di email continui e versione, non versione, eccetera eccetera, utilizzo questo repository condiviso perché c'è la possibilità di condividere singole cartelle mediante link protetto da password oppure no. Una soluzione molto interessante tra l'altro per condividere credenziali, voi tutti sapete, voi tutti che vi occupate di sicurezza o di protezione dei dati sapete benissimo che quando si mandano le credenziali a un soggetto esterno per l'accesso a un sistema informatico non bisogna mettere username e password nella stessa comunicazione, lo username va trasmessa con un canale e la componente riservata della credenziale va trasmessa con un altro canale. Io qua non mi ricordo se l'ho messo nelle slide, però questo servizio che vi metto in chat onetimesecret.com è una soluzione carina che vi permette di generare un link che il destinatario può aprire una sola volta, in quel link potete mettere la password e in quel modo avete la possibilità di mettere la componente pubblica della credenziale e la componente riservata nella stessa mail perché ci sarà il link o lo username in una parte del testo della mail, immaginatevi, e poi un link a questo one time secret che il destinatario potrà aprire una sola volta. Esploratelo, guardate perché è una soluzione molto utile, molto interessante. Oltretutto mandando delle password così generate a caso non c'è neanche un problema di privacy perché ovviamente l'altra componente della credenziale nessuno ce l'ha. Tra l'altro, importantissimo per gestire le password, cercatevelo se non lo utilizzate un password manager come KeePass o KeePassX per Mac. È lo stesso password manager che utilizza Edward Snowden che è uno che secondo me di sicurezza informatica un po' se ne intende. Principali capacità necessarie. Utilizzo avanzato di strumenti documentali, Microsoft Office, LibreOffice dovete essere secondo me anche molto smart nel saper capire l'altra parte che cosa sta usando sta usando Word, sta usando LibreOffice perché tante volte le formatazioni, lo sapete, vanno a pallino se si utilizza prima uno strumento poi l'altro. Molto utili le funzioni di appunto condivisione e revisione dei documenti ve ne ho parlato. Mi rendo conto che vi sto dando moltissime informazioni forse in maniera anche un po' disordinata ma mi auguro che poi nei dieci minuti, quarto d'ora magari che lasciamo al termine potrò magari andare un pochino più in profondità su certe cose. Utilizzo di indici, sommari, elenchi puntati e numerati è molto importante secondo me anche in questo anche per aiutare l'utente quando si tratta di andare a leggere le informative perché tutti voi sapete per esempio mi viene in mente l'informativa, l'informativa deve essere in linguaggio semplice, chiaro e se non riesce a essere in linguaggio semplice deve essere strutturata in maniera semplice, deve essere strutturata a livelli con delle attenzioni grafiche che su cui la redazione dei documenti in maniera un pochino più avanzata può aiutare molto. Così come anche aiutano molto, e qua non parliamo di legal tech se vogliamo, ma di legal design, delle tecniche redazionali di contratti e atti che siano un pochino più smart, nel senso se volete un po' all'anglosassone, cioè con una parte definitoria se volete relegata in un articolo oppure in un allegato, il che vi consente di redigere clausole contrattuali molto più brevi con una precisione molto più, con un'accuratezza molto più elevata, all'anglosassone insomma ve l'ho detto, quindi utilizzando le lettere maiuscole e utilizzando anche se volete una tecnica modulare e scalabile anche in questo, cioè nell'inserire tutte le dichiarazioni di una parte o dell'altra in un articolo, tutti i diritti di una parte o dell'altra in un articolo, tutti gli obblighi di una parte o dell'altra in un altro articolo, tutte le responsabilità in un'altra parte, sappiamo bene che i contratti sono scritti in maniera molto diversa, paese che vai, usanza che trovi come sempre, io mi trovo molto bene per esempio nel redigere gli accordi ex articolo 28, i DPA, i Data Processing Agreement, a utilizzare questa tecnica anche perché è molto utile quando si devono creare dei modelli per esigenze standard che poi vanno personalizzati e in questo mi è utile una tecnica di articolato generale e poi di allegati magari sulle misure di sicurezza oppure sulle caratteristiche del trattamento affidato al responsabile. Anche questo secondo me è molto molto importante. Per i tool ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti, non mi soffermo più di tanto sul tool PIA della CNIL che comunque è molto molto utile e comunque utile anche in termini di ispirazione, voi potete fare tranquillamente anche come io personalmente ho fatto del reverse engineering, guardate quello, estraete i contenuti e ve li ricostruite come volete voi. Io vi ripeto, utilizzo molto 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 Google Form con le sue funzionalità di blocco, di mettere molti sì e no e fare in modo che tutto un set di risposte, se viene risposto no, non venga presentato. Vi segnalo questo tool di Enisa per l'analisi dei rischi, lo andrete a esplorare, anche questo è uscito da poco, mi pare fine gennaio. Poi ci sono tante altre risorse utili, qua più che di tool si parla di strumenti di ausilio alla compliance, quello proprio per il consulente. Molto utile questo sito Enforcement Tracker, è una soluzione per andare a esaminare quali sono state gli arresti, voglio dire le sanzioni, i provvedimenti sanzionatori irrogati dall'autorità di controllo europee, in una maniera molto interessante e molto aggiornata. Un'app per mobile sviluppata da DLA Piper, dal famoso studio DLA Piper, così come tutto il sito tematico del Dipartimento di Data Protection di DLA Piper, è fatto molto molto bene. Qua c'è tutta una pagina di canali Telegram, e qua vi cito il penultimo link, che è un canale Telegram sviluppato da un amico per me e un collega nostro di Torino per tutti gli altri che sono avvocati, che si chiama Enrico Ferraris, ha sviluppato questo canale Telegram che fa scraping di tutti i siti, di tutte le autorità garanti europee e un aggregatore di notizie, praticamente. Ovviamente il canale Telegram del Garante, altri canali Telegram molto molto utili, non vi parlo del canale Telegram di Liga La Castorino, perché tutti siete a conoscenza. Un'altra parte, secondo me, importante riguarda, per esempio, gli strumenti per fare un audit dei cookie su un sito. Ci sono tante soluzioni, ce n'è una sviluppata dal European Data Protection Supervisor, che è il penultimo link che vedete nella slide, non è amichevolissima in termini di installazione, perché è un pacchetto che si installa, ecco, per chi non è un informatico, io non sono un informatico e ho delle competenze informatiche che arrivano, sì, all'utilizzo di terminale, però ci devo un pochino studiare e smanettare. Per un programmatore è probabilmente tutto molto più facile, per un informatico puro. Poi ci sono anche altre soluzioni per fare un esame dei cookie presenti su un sito, cosa che vi serve, ovviamente, per fare una cookie policy decorosa. C'è un'estensione per Chrome, c'è CookieBot, che però non è free, e poi c'è questo link, il secondo, che mi è stato segnalato sempre da Enrico, che ringrazio, è di una società svedese ed è fatto piuttosto bene. Andate a esplorare anche questo. Per il DPO ci sono numerose soluzioni. Quelle che io vi segnalo sono queste. Io stesso vi confesso che le ho esplorate poco. Allora, la seconda l'ho esplorata piuttosto a fondo, perché ho contribuito allo sviluppo, e quindi gioco forza l'ho approfondita. Però, ecco, il mio parere è, poi dipende, ognuno avrà le sue inclinazioni. Se volete essere davvero legal hackers, partite from scratch, partite da zero, andate a esaminare tutto quello che il mercato vi offre, prendete e costruitevi le vostre soluzioni, non innamoratevi, secondo me, di una soluzione, perché in questo modo vi precludete le possibilità di capire veramente come stanno le cose, non che stiano in maniera oggettiva. Io vi potrei raccontare la mia realtà, quello che ho capito io, ma non è detto che sia il Vangelo, perché io ho un certo background, ho un certo focus, magari ho un focus sulla compliance, e non ho una sensibilità minore sulla risk analysis, per esempio. E in questo, vabbè, sapete tutti che l'approccio multidisciplinare è pressoché ormai imposto dal GDPR. Ho ancora tre minuti, Raffaele. Sì, e poi ti faccio una considerazione io. Certo, ma penso di avere quasi finito, perché in fondo io poi queste slide ve le vorrei lasciare, mi piacerebbe tanto che ci fosse spazio per voi. Questi sono, questi che vedete alla slide 12 e alla slide 13, sono una raccolta dell'ultimo paio d'anni di molte, non tutte, perché non sono tutte, ne mancano sicuramente parecchie. Sì, già una che mi veniva in mente non la ritrovo qui, forse. Si chiama Studio Storti, questo è un tool piuttosto interessante. Studio Storti, ve lo... Così come anche l'applicativo di Liguria Digitale. Però ecco, questi sono tutti strumenti che voi potreste eventualmente suggerire a organizzazioni medio-grandi con cui arriviate in contatto oppure con enti pubblici. Basta, io sono andato più veloce che potevo, mi rendo conto che vi ho buttato tanti spunti, spero che voi siate riusciti a quantomeno a farvi venire voglia di fare qualche domanda e questo è il momento opportuno. Raffaele, lascio a te. Sì, Pietro, ma guarda, dico innanzitutto, sei stato bravissimo nella sintesi che ti avevo espressamente chiesto. Io volevo... Grazie Angelo, alla prossima, ciao. Mentre faccio un paio di considerazioni io, chiedo a chi sta partecipando di scrivere domande nella chat o prenotarsi scrivendo nella chat affinché io poi possa lasciare la parola qualora volesse esprimere un quesito, una osservazione, quindi usate adesso la chat mentre io parlo. Diciamo, io ho capito questo da non esperto di GDPR che di base tu suggerisci di utilizzare vari strumenti di form online. Pietro, posso chiederti di togliere la condivisione dello schermo? Così non abbiamo più lo schermo diviso, visto che non serve più la presentazione. Allora, tu innanzitutto dici, grazie Pietro, tu innanzitutto dici, guardate, utilizzate i form online per accogliere le informazioni, per fare le interviste. Form online che in realtà sono nati per altro, sono nati per qualunque tipo di necessità di creare dei moduli. Poi dici anche, dopo aver imparato a utilizzare i moduli online, mi raccomando, utilizzate anche, imparate a usare anche gli strumenti forse un po' più noti, cioè i vari applicativi di videoscrittura o i fogli di calcolo, perché non dobbiamo pensare a Legal Tech soltanto come soluzioni molto complicate, molto sofisticate, dedicate, no, cercate di essere creativi. Quindi partite da cose che sono generiche e di servizi gratuiti in termini economici, gratuiti in termini, in questo senso ce ne sono tante, e piegateli alle vostre necessità, che sia il gestionale interno, Trello, che sia invece, che sia invece Word, che sia Google Doc, che sia moduli Google, siate creativi nell'utilizzare applicativi che già esistono, che non nascono per GDPR, per finalità GDPR. E quindi, cioè, non andate per forza a cercare qualcosa ad hoc, perché magari avete già degli strumenti, ma basta solo essere un pochino creativi, ed ecco che possono essere piegati a un utilizzo specifico, nel caso che stiamo discutendo, di conformità GDPR, conformità di protezione dati. Grazie Giuseppe per il tuo commento, mi fa molto piacere. Ripeto, se hai domande e quesiti, vuoi intervenire subito, questo è sicuramente il momento giusto. Chiedo poi a Pietro di condividere nella chat Liga Lakers Torino la presentazione, perché mi sembra di capire che non sia riservata e che quindi si possa fare. Licenza Creative Commons. Fantastico, grazie mille. Quindi se poi ce la condividi nella chat Telegram di Liga Lakers Torino, ci saremo tutti quanti grati. Però volevo portare ancora questa domanda, io in attesa che qualcun altro anche si faccia avanti. tu ci hai parlato di strumenti generici che tu, con la tua creatività, con la tua competenza, con la tua abilità, hai piegato a un utilizzo GDPR. Ma per chi non avesse questa fantasia, questo tempo, questa competenza, ci sono strumenti però specifici che nascono espressamente per la conformità GDPR. È chiaro che non sono gratuiti, cioè sono a pagamento, però mi confermi che esistono degli strumenti Legal Tech ad hoc? Esistono degli strumenti per la gestione degli adempimenti privacy, sicuramente, ne esistono veramente tanti, perché le software house nel corso del tempo si sono industriate, ovviamente anche per intercettare opportunità di business, nel redigere questi strumenti che molto spesso prendono le mosse per quelli che hanno iniziato diciamo un po' prima, subito hanno preso l'onda del GDPR e sono iniziati come sviluppi di quelle soluzioni che gestivano il cosiddetto DPS, il documento programmatico sulla sicurezza, che era obbligatorio fino al 2012, che era un po', diciamo, una delle poche cose che si dovevano fare sulla base della normativa di derivazione direttiva 95, cioè il codice privacy, il decreto legislativo 196 del 2003, come lo conoscevamo prima dell'entrata in vigore e poi dell'inizio del periodo di applicabilità del GDPR. Io ribadisco quello che ti ho detto, quelle soluzioni ci sono, sono sicuramente anche in qualche caso apprezzabili, ma se siamo giuristi, se siamo consulenti con una forte base legal e siamo anche un po', appunto, hackers nell'animo, dobbiamo decompilare, dobbiamo veramente fare questo sforzo, perché se no ci facciamo guidare dalla tecnologia, siamo noi che dobbiamo guidare la tecnologia. Questo è il tema. È molto bello questo tuo messaggio, mi piace molto. E l'unico modo per farlo, a mio avviso, è quello di studiare, sbattere la testa sui problemi, andare a vedere che cosa propone il mercato delle soluzioni non necessariamente nate per la gestione privacy, ma piegabili, per riusare questa espressione, alle nostre esigenze, ed è solo con questo continuo andi rivieni, dalla teoria alla pratica, che veramente ci impadroniamo di certi strumenti e di certe logiche, e riusciamo a governarli, perché veramente, se no il rischio è quello di fare, allora adesso magari voglio cercare di dirla bene questa cosa che vorrei dire, cioè Pensa con attenzione. Sì, anche per tutto l'amore e il rispetto che io nutro nei confronti degli informatici, però in questa materia, nella materia della gestione delle informazioni, nella gestione e nella consulenza sulla compliance riguardante la gestione delle informazioni e delle informazioni personali, quindi la data protection, l'informatico lasciato da solo si perde, perché sta dietro alla soluzione e utilizza la soluzione, perché culturalmente è a questo imprinting, la sua forma mentis è questa, e si rischia di perdere la visione d'insieme. Io sono un fan della sinergia fra informatici e avvocati nella data protection e in tutto quanto riguarda la tecnologia, tu mi insegni Raffaele in DLT e quanto altro, quanto indispensabile è avere degli informatici al fianco, io credo davvero nel gioco di squadra, perché il legale serve per avere la visione d'insieme, l'informatico è indispensabile per andare a calare a terra le misure tecniche opportune a seconda del contesto, delle finalità e della natura del trattamento. Pietro, spondi una a porta aperta perché è la filosofia di legal hackers questo, far convergere due mondi che solitamente non parlano, diritto e informatica e questo si ottiene soltanto facendo dialogare entrambe le figure, perché se parliamo di legal tech evidentemente serve la componente legale e la componente tecnologica, se ne togli una non funziona, è inevitabile, quindi sono perfettamente d'accordo. in qualche modo l'avvocato, il legale verso l'informatico e l'informatico verso il legale devono essere, devono comportarsi da modem, l'uno nei confronti dell'altro, bisogna fare, ognuno deve fare modulazione e demodulazione. Sì, sì, perché è oggettivo che sono due modalità di ragionamento diverse e due modalità di esprimersi diverse e entrambi dobbiamo fare lo sforzo di riuscire a capire l'altro, perché servono entrambe le componenti, non ne basta soltanto una. Noi siamo quella generazione, quella schiera di professionisti legali che diversamente da tanti altri nostri colleghi questo lavoro di ponte lo possiamo fare, lo dobbiamo fare, perché dobbiamo arrivare a un momento in cui il legale è consapevole di avere assoluta necessità di un informatico al fianco, ma anche l'opposto. Guarda, insomma, adesso Nicolino Gentile ha scritto un messaggio che condivido e che se vuole può anche intervenire con la propria viva voce se ha piacere, non so se però Nicolino abbia voglia in questo istante. Abile e ha volato. Benissimo, hai voglia di esprimere a voce quello che hai scritto per chi non può leggere i messaggi? Ah no, certo, certo, senza altro. Intanto saluti a tutti. Ciao Pietro, ottima spiegazione. Ciao Nicolino. Mi scuso così come ieri per essere arrivato in ritardo. Ah, ci mancherebbe. Durante, oggi sono arrivato alle, credo fossero le 16.25, quindi. No, quello che ho sentito è che francamente anche io da non un esperto dedicato completamente verticalmente alla comprensione GDPR, però condivido un po' questo pensiero, no, che è quello che poi ho scritto e credo che appunto anche Pietro sia d'accordo da quello che anche rispondeva adesso nella chat. Io, diciamo, nella piccola, piccolissima esperienza che ho in questo settore, che però se vuoi può essere, se vogliamo può essere anche un po' la stessa o in maniera analoga la si può ritrovare anche in altri settori di attività professionale giuridica nel momento in cui si vanno a fare assessment piuttosto che due diligence o anche semplicemente individuare delle strategie di risoluzione di problemi non necessariamente in ambito compliance, però quello che effettivamente credo sia importante è che quando noi parliamo di soluzioni legal tech o soluzioni appunto software per la risoluzione di determinati o l'aiuto e il supporto nella gestione di determinate attività in realtà non volendo commettiamo se vogliamo un errore dato proprio dal lessico cioè la soluzione legal tech dovrebbe darti quindi diciamo aiutarti a risolvere quindi a sciogliere un problema che hai in realtà il problema non è quello complessivo ossia di trovare poi un nuovo una nuova maniera di appunto un nuovo design di un processo o una nuova maniera di effettuare determinate attività all'interno dell'organizzazione aziendale quindi in realtà non è una soluzione al tutto ma ti può aiutare al massimo a assumere delle informazioni a spacchettare quello che hai a incasellare perché poi alla fine di quello parliamo no? incasellare in anche un numero infinito enorme di caselle ma sempre e comunque mettere all'interno di soluzioni di come dire categorie predefinite tutto ciò che andiamo a ritrovare e quindi in questa maniera strutturarcelo organizzarcelo rendercelo più comprensibile quindi più analizzabile ma oltre quello probabilmente non si riesce a fare con una soluzione informatica al massimo potrà dare la soluzione informatica degli spunti di sintesi rispetto all'analisi che ha compiuto e quindi ci dirà hai analizzato una determinata situazione ho analizzato una determinata situazione da questa analisi ho rinvenuto che in forma come dire sintetica aggregata tirando questo tipo di informazioni complessive generali ma poi mettere come dire la testa nel ok questo è il punto di partenza rispetto al punto di arrivo che deve essere un altro ossia quindi la compliance alla normativa o anche semplicemente come nel GDPR se non sbaglio un rispetto di criteri e non di norme ben cogenti e ben definite proprio nel dettaglio allora lì ci devi mettere per forza la testa e quindi la sintesi e la costruzione del nuovo rispetto all'analisi del vecchio non puoi che farla in maniera creativa e creativamente ti puoi aiutare con dei tool ma se non ci metti la tua creatività non arrivi da nessuna parte non so se il mio lungo e prolisso discorso è stato chiaro secondo me sì è stato molto molto chiaro e credo che anche Pietro come me convenga insomma con quello che hai appena detto sono le cinque se non ci sono altre domande io chiuderei a meno che tu Pietro non abbia piacere di aggiungere qualcosa ovviamente voglio provare a lanciare uno spot una sorta di spot a conclusione non bisogna innamorarsi delle macchine non bisogna saltarci sopra siamo noi che dobbiamo diventare in qualche modo bionici questo è il tema come l'uomo dai 6 milioni di dollari quando ero ragazzino c'era la serie tv sappiamo tutti che le tecnologie ci possono veramente far svoltare ma per governarle le dobbiamo conoscere veramente molto molto bene e sporcarci molto 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 le mani assolutamente sì bene io direi che possiamo concludere qui ci tengo soltanto a dire un paio di cose ossia grazie a tutti coloro i quali che questa settimana ci hanno seguiti come tutti sanno abbiamo iniziato martedì quindi questo è stato il quarto incontro con questo format inventato molto rapidamente e ringrazio tutti i relatori che si sono su su seguiti e ci hanno dato fiducia in questa prima settimana l'idea è quella come community in questo momento così teso poter dare un'ora al giorno non è vero perché dal martedì al venerdì un momento di distrazione su temi importanti nuovi utili che possono far sorgere anche delle nuove idee abbiamo cercato di spostare nel mondo online quello che di solito facciamo di persona cioè fare degli incontri fare dei meet up infatti abbiamo chiamato questo format web meet up proverei ad anticipare i contenuti della prossima settimana poi manderò le comunicazioni scritte questo format durerà tanto in quanto ci sarà questa fase di quarantena forzata la prossima settimana parleremo di convergenza blockchain e intelligenza artificiale e internet delle cose quindi per capire come queste tre tecnologie insieme stanno pian piano convergendo che cosa ci permetteranno di fare nel presente e nell'immediato futuro smart working che è un tema sempre più caldo sempre più rilevante in questo momento in cui di colpo tantissime società si sono trovate nell'impossibilità di avere i propri dipendenti in ufficio e sono state costrette ad utilizzare questo fenomeno dello smart working che molte imprese cercavano di evitare e invece è stato di necessità e per forza di cosa abbiamo dovuto imparare tutti a fare smart working e ne parleremo la prossima settimana così come parleremo di società benefit un concetto giuridicamente introdotto in Italia nel 2016 di cui ancora si parla molto poco e che è un fenomeno di innovazione esso stesso perché l'innovazione non solo quella tecnologica ma può essere un'innovazione di processo sociale e in questo caso societaria e infine parleremo di legal design venerdì della prossima settimana quindi anche la prossima settimana abbiamo quattro temi diversi tra loro e con delle verticali di interesse diverse e importanti tutti e quattro io non posso fare altro che augurare buon fine settimana a tutti ricordare a tutti di stare al sicuro mi raccomando e ci rivediamo martedì della prossima settimana alle ore 16 grazie a tutti grazie a tutti e buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti